Bene, buonasera a tutti. Benvenuti a questo ultimo appuntamento che chiude il ciclo di incontri a due voci promorso dalla rete di musei Welcome. Questa chiacchierata a due voci tra arti e scienze ha come titolo colori negli occhi e colori nella mente. Io sono Silvia Giami e questa buonasera rappresento la Fondazione Scienza e Tecnica. Passo la parola al mio collega il professor Martini che ha così la possibilità di presentarsi. Buonasera, ci conosciamo già con molti di voi. Sono il presidente del Museo Istituto Fiorentino di Preistoria e che vi presenterò dopo con due immagini e auguro a tutti buon ascolto. Bene, come vi dicevo rappresento la Fondazione Scienza e Tecnica. Ora non so se qualcuno di voi ne ha mai sentito parlare o l'ha mai visitata, quindi ve la presento brevissimamente. Intanto la sede è in via Giusti al numero 29. Subito all'entrata vi trovate in una galleria che ospita delle ampie teche in cui sono custoditi gli oggetti delle collezioni del vecchio gabinetto di storia naturale. Sempre sulla galleria affacciano la biblioteca, il planetario e il gabinetto di fisica. Il gabinetto di fisica raccoglie una delle più ricche collezioni di strumenti scientifici ma ricche proprio a livello europeo che purtroppo rimangono sconosciuti a tanti. Tutti gli strumenti risalgono più o meno all'ottocento e li trovate esposti suddivisi per appartenenza alle varie branche della fisica classica. Ecco quindi che troverete gli strumenti per lo studio della meccanica classica o cinematica, dinamica, statica. Qui vedete quelli per l'ottica, microscopi, telescopi, spettroscopi, per l'acustica, per l'elettrostatica e l'elettromagnetismo. E potrei continuare ancora, mi piacerebbe farlo, ma sono più di duemila strumenti e quindi è forse meglio se mi fermo qua e mi concentro, ci concentriamo sul tema di stasera, cioè il colore. Questo tema può essere affrontato sotto tanti punti di vista. Ci sono svariate discipline che lo prendono in considerazione, tipo la biologia, la medicina, la filosofia, la matematica, la psicologia, per non parlare ovviamente dell'arte e della fisica. Ecco, io mi concentrerò su quest'ultima, cioè il colore dal punto di vista fisico. In fisica il colore è un'onda. Tanti fenomeni sono descrivibili tramite onde. Se ci pensate un attimo sicuramente vi vengono in mente le onde sonore, le onde sismiche, che sono fenomeni appartenenti alla nostra quotidianità, fino ad arrivare ad onde diciamo più esotiche, come possono essere le onde gravitazionali. Ma cos'è un'onda? Ecco, se prendiamo una definizione, ora io l'ho presa da Wikipedia, leggiamo che un'onda è una perturbazione, una perturbazione che si propaga nello spazio e nel tempo trasportando energia o quantità di moto senza però trasporto di materia. Per spiegarla in maniera più efficace, il paragone che mi viene in mente subito è quello della ola allo stadio. Ora, non so se vi è mai capitato, ai bei tempi in cui si poteva andare allo stadio, di essere coinvolti in una ola. Come si fa? Quando è il nostro turno ci dobbiamo alzare, poi rimettere a sedere e oscillare intorno alla nostra posizione, senza però spostarci nel posto accanto. Ciò che si sposta, che si propaga, è la perturbazione e l'effetto complessivo ve lo faccio vedere. oppure quando una goccia d'acqua cade su una distesa d'acqua inquiete genera una perturbazione che si propaga con simmetria circolare. Ad alzarsi, ad abbassarsi, qui sono le particelle di acqua. Nelle onde sonore, invece, ciò che oscilla intorno alla propria posizione di equilibrio sono le molecole dell'area, che qui vedete rappresentate come dei pallini. Queste particelle a loro volta, iniziando ad oscillare, trasmettono il movimento alle particelle vicine e questa a loro volta ad altre ancora, provocando una variazione locale della pressione. Quindi, in questo modo, un semplice movimento vibratorio si propaga dando origine a un'onda sonora. Ora, abbiamo detto che in fisica anche il colore è un'onda, ma che onde sono? Che cosa è che oscilla? Il colore è un'onda elettromagnetica. Ecco, ora, non vi spaventate perché non entreremo nel dettaglio. Ripensate un po' alla goccia d'acqua, no? Stavolta, la casa della perturbazione è però una particella carica, per esempio un elettrone, che oscilla e oscillando produce una perturbazione del campo elettrico. E qui, vedete, rappresentato da questo foglio bidimensionale. In realtà, stiamo parlando di un oggetto che ha tre dimensioni. L'oscillazione del campo elettrico, a sua volta, produce una perturbazione del campo magnetico, che prende anch'esso a oscillare in fase con il campo elettrico. E quindi, ecco cosa sono le onde elettromagnetiche. Sono oscillazioni sincronizzate di campi elettrici e magnetici. In questa figura, la sinusoide rossa rappresenta il campo magnetico e questa qui blu il campo elettrico. Riprendiamo un attimino la nostra sinusoide perché dobbiamo definire un parametro, un parametro che ci interessa per comprendere il colore dal punto di vista fisico, cioè la lunghezza d'onda. Un parametro che è spesso indicato in fisica con la lettera greca lambda e che rappresenta la distanza tra due creste, tra due picchi dell'onda, oppure tra due valli, è la stessa cosa. Ecco che ci siamo. Un'onda elettromagnetica con una lunghezza d'onda di 700 nanometri corrisponde al colore rosso. Se il lambda è sui 550 abbiamo il colore verde, se è 500 abbiamo il colore blu. I sette colori dell'iride, detti anche colori spettrali, sono rappresentati dunque da onde la cui lunghezza d'onda varia più o meno tra i 700 e i 400 nanometri. Ecco, ora forse non vi ricordate quanto è un nanometro. Per avere un'idea di che dimensioni stiamo parlando, se prendete un righello e considerate la suddivisione più piccola, quella di un millimetro, pensate di doverla dividere ancora un milione di volte. Uno di questi pezzettini è lungo un nanometro. Non c'è, come vedete, una separazione netta tra un colore e l'altro e la presenza contemporanea di tutti questi colori, cioè di tutte queste lunghezze d'onda, forma la luce bianca. Newton si accorse di questo fenomeno nel 1666, quando scoprì che un fascio di luce bianca che passa attraverso un prisma di vetro si scompone in una serie ordinata di raggi colorati. Qui c'è la foto di un arcobaleno perché di fatti il fenomeno alla base è lo stesso. Le goccioline d'acqua fungono da tanti prismi che scindono la luce bianca del sole. Infatti, quando è che abbiamo l'arcobaleno? Ce l'abbiamo quando piove e contemporaneamente c'è il sole. Il processo inverso, cioè quello della composizione di questi sette colori per formare il bianco, si ha con il disco di Newton, cioè un disco diviso in sette settori uguali e colorati con i sette colori spettrali. Se viene messo in rapida rotazione, ai nostri occhi appare il colore bianco. Mi preme però farvi notare una cosa. Quando vediamo un oggetto, prendiamo un pomodoro rosso. Il colore rosso del pomodoro non è una sua proprietà, un ingrediente come possono essere i semi o la polpa. Noi lo vediamo rosso perché quando la luce bianca del sole lo colpisce, solo la componente rossa viene riflessa. Quest'onda rossa entra nell'occhio dove stimola dei particolari sensori che sono sulla retina, i coni, che trasmettono il segnale elettrico al cervello. È il nostro cervello che poi interpreta quella lunghezza d'onda come rosso. Insomma, il pomodoro non è rosso, ma ci appare rosso. Per concludere il discorso sulle onde elettromagnetiche, noi abbiamo visto che quelle onde con lunghezza dai 700 ai 400 nanometri sono visibili ai nostri occhi e il nostro cervello le interpreta come colori. Ma se un'onda è più corta di 400, è tipo 300 nanometri, ecco che si va nell'ultra di oletto. Se è più lunga, quindi è 800 o più nanometri, si va nell'infrarosso. Ora, queste lunghezze d'onda noi non le possiamo vedere, ma alcuni animali, le api, riescono a vedere nell'ultra di oletto. Questo range di lunghezze però è solo una piccolissima porzione dello spettro elettromagnetico, cioè la gamma di tutte le lunghezze d'onda possibili. Lo spettro elettromagnetico è la gamma di tutte le lunghezze d'onda possibili. Il spettro è diviso in bande, anche qui non sono separate o con confini netti. Si parte da onde lunghissime di migliaia di chilometri, le onde radio, che arrivano sino a circa un millimetro e comprendono anche quelle che chiamiamo microonde. Ora, quando accendiamo la televisione o ascoltiamo la radio, questi strumenti captano appunto delle onde radio. Se in casa avete la wifi, siete circondati da onde che hanno una lunghezza di una decina di centimetri. Se avete il forno a microonde, quando lo accendete, questo forno spara delle onde che non vediamo, ma che sono lunghe circa 12 centimetri. Poi abbiamo appunto l'infrarosso, la parte visibile, l'ultravioletto. A dimensioni ancora più piccole ci sono i raggi X, quelli che vi sparano addosso se andate a farvi la cosiddetta lastra, se vi siete rotti per esempio un dito, e hanno una lunghezza d'onda dei decimi di nanometro. Infine, i più corti in assoluto, i più energetici, sono i raggi gamma, e qui siamo alle dimensioni di 10 alla meno 12, si chiamano picometri, e siamo alle dimensioni di un atomo. Le leggi fondamentali che descrivono le onde elettromagnetiche, il campo elettromagnetico, sono le famose equazioni di Maxwell. Siccome abbiamo visto che anche la luce è un'onda elettromagnetica, le equazioni di Maxwell descrivono anche il comportamento della luce. Ecco, una barzelletta che si sente spesso nei dipartimenti di fisica, racconta che un tempo Dio disse le equazioni di Maxwell e luce fu. Lo studio dello spettro elettromagnetico è alla base di quella parte della fisica che si chiama spettroscopia. La spettroscopia è fondamentale in astrofisica. Le stelle o gli oggetti celesti in generale, infatti, sono molto distanti e l'unico modo che abbiamo per studiarli è raccogliere la luce, cioè la radiazione elettromagnetica, e analizzarla. Quando la sera alzate gli occhi al cielo, a prima vista le stelle ci appaiono un po' tutte uguali, ma se si fa attenzione, anche con i nostri occhi possiamo già cogliere delle differenze. Prendiamo la meravigliosa costellazione di Orione, il mitico cacciatore che in questo periodo è ancora ben visibile nel cielo notturno. La stella che è sulla spalla destra si chiama Betelgeuse. La stella che è sul piede sinistro si chiama Riegel. Se le osserviamo attentamente, e vi assicuro che si vede anche bene a occhio nudo, Betelgeuse ci appare brillare di rosso, mentre Riegel di blu. Questo perché hanno una temperatura superficiale differente. Quale sarà quella più calda e quella più fredda? Per rispondere a questa domanda ci viene in aiuto una legge, la legge dello spostamento di Vien, che ora, forti di quanto abbiamo detto prima, siamo in grado comunque di capire. Vediamola un po'. Ci dice che il lambda, che è la nostra lunghezza d'onda, per la temperatura T è un prodotto sempre costante. Quindi, se vado a T alte, quindi stelle molto alte, cosa deve fare il lambda affinché il prodotto rimanga costante? L'onda deve diminuire. Ecco quindi che a temperature alte corrispondono lambda corte. E ora possiamo rispondere alla domanda. Se è più calda Riegel o Betelgeuse? Sicuramente la luce blu di Riegel ha una lunghezza d'onda più corta, quindi ha una temperatura più alta rispetto a Betelgeuse, che è una stella rossa. Ecco, per le stelle vale un po' questa regola controintuitiva. Più è calda la stella, più il colore si sposta verso il blu. In base alla temperatura superficiale e quindi al colore, le stelle vengono suddivise in classi spettrali, indicate dalle lettere dell'alfabeto O, B, A, F, G, K, M. Stelle di classe spettrale O sono le stelle più calde in assoluto. La temperatura è superiore ai 30.000 K per Kelvin. Ora, per chi non se lo ricorda, il grado Kelvin misura la temperatura assoluta. Se si volesse passare ai più familiari gradi centigradi, bisogna semplicemente sottrarre a questi 30.273. La lettera B indica le stelle tra i 10.000 e i 30.000 K, Kelvin, tipo Riegel, e così via A, F, G, il nostro Sole, fino a M, che sono le stelle più fredde, come Betelgeuse. Ora, fredde per modo di dire è relativo, perché stiamo parlando di temperature di 3.500 K. Kelvin. Una curiosità, per memorizzare l'ordine di queste classe spettrale, generazioni di astronomi si sono aiutati facendo nell'acronimo di una frase, una frase inglese, che è Un altro oggetto interessante, sempre in Orione. Silvia, puoi un attimino ripetere l'ultima? La frase, sì. O, B, è fine girl, cioè, sì, una ragazza carina, baciami, kiss me. Come vi dicevo, un altro oggetto interessante in Orione, si trova tra le stelle della spada, questa macchiolina che vedete, che non è una stella, ma è la cosiddetta grande nebulosa di Orione. È visibile anche a occhio nudo, nei cieli meno inquinati, e ci appare un po' come un batuffolo bianco. Ecco, i nostri occhi non possono fare di più, ma se usiamo gli occhi di altri strumenti, riusciamo a vedere cose che noi umani non possiamo nemmeno immaginare. Per esempio, con gli occhi di Spitzer, un satellite della NASA che riesce a vedere nell'infrarosso, la nebulosa apparirebbe così. Il rosso è l'emissione del gas caldo, il verde è l'emissione della polvere. Con gli occhi di Hubble, l'Hubble Space Telescope, che vede nel visibile, la nebulosa apparirebbe in quest'altro modo. Mettendo insieme queste due immagini, otteniamo una visione più completa della struttura tridimensionale della nebulosa. Se utilizziamo un altro strumento ancora, Chandra, sempre della NASA, che riesce a vedere però i raggi X, la nebulosa ci appare così. e Chandra mette in evidenza queste stelle giovani, quindi molto energetiche, molto brillanti. Anche questa è un'immagine combinata perché la parte viola è presa da un altro strumento, il VLA, che vede nel radio. Un'ultima immagine della nebulosa, molto spettacolare, immagine colorata, anche questa artificialmente, per mettere in evidenza l'emissione di vari elementi, il rosso, lo zolfo, l'idrogeno, il verde, l'ossigeno, il blu. Abbiamo detto che il colore della stella ci dà indicazioni sulla temperatura, ma ci può dire qualcosa anche sul moto. Esiste un fenomeno chiamato effetto Doppler che osserviamo in astrofisica, ma anche nella vita quotidiana. Per spiegare l'effetto Doppler di solito si fa l'esempio dell'ambulanza. L'ambulanza quando si avvicina ha un suono molto acuto, poi quando ci passa davanti e si allontana, questo suono diventa più grave. Non so se ce l'avete presente. Questo è perché mentre si avvicina è come se le onde sonore venissero compresse, quindi il suono ci appare più acuto, perché sono onde più corte. allontanandosi invece l'onda percepita è più lunga, aumenta, e quindi il suono è più grave. Lo stesso principio si applica alle onde elettromagnetiche, quindi alla luce. Una sorgente che si allontana emette delle onde è che ci appaiono stirate, quindi più lunghe e quindi più rosse. Si chiama redshift, spostamento verso il rosso. Viceversa, una sorgente che si avvicina, queste onde ci appaiono più corte di come sono realmente e quindi uno spostamento verso il blu, il blueshift. Fu grazie all'effetto Doppler che un importante astronomo, Edwin Hubble, nel 1929, scoprì che la radiazione che riceviamo dalle galassie è tanto più spostata verso il rosso quanto più queste sono distanti. e da qui l'idea che l'universo è in espansione, cioè che tutte le galassie si stanno allontanando una dall'altra, come succederebbe a dei puntini disegnati sulla superficie di un palloncino mano a mano che questo viene gonfiato. Quindi, si è pensato, estrapolando indietro nel tempo, se ora si sta espandendo, ci deve essere stato un momento nel passato in cui tutto l'universo era concentrato in un punto, un punto piccolissimo di densità infinita detto singolarità, in cui tutte le distanze erano nulle. Da qui la teoria cosmologica del Big Bang. Circa 14 miliardi di anni fa la rapida espansione di questo punto ha creato lo spazio e il tempo in cui viviamo oggi. grazie per l'attenzione interrompo la condivisione del mio schermo e passo la parola al professor Martini. Bene, bene, allora mi scuso per questo ritardo. Ti dicevo il museo fiorentino di preistoria dalla fisica all'archeologia e in particolare all'archeologia delle origini. Due parole sul museo che molti di voi già conoscono. Siamo in pieno centro a Firenze a due passi dal Duomo. È un museo che raccoglie documenti di tutto il mondo che riguardano appunto la preistoria. La preistoria intesa come presenza dell'uomo sulla terra. Quindi due milioni e mezzo di anni fa. è un museo che abbiamo inteso come struttura accessibile a tutti con grandi pannelli scritte grandi molte foto ma soprattutto stiamo sperimentando questa pratica delle vetrine aperte laddove i visitatori possono non sempre ma in alcuni casi toccare oggetti esposti nelle vetrine e ci sono anche apparati tattili e video nella lingua dei segni italiana appunto per i non udenti. Il tema che vi propongo stasera è l'uso del colore nella preistoria. Il colore quindi quindi come documento archeologico per ricostruire le azioni gli atteggiamenti la mentalità delle popolazioni preistoriche ci limitiamo stasera a parlare del periodo più antico della preistoria il paleolitico che inizia circa due milioni e mezzo di anni fa e che per convenzione stando anche ai documenti si fa terminare intorno a diecimila anni fa. Il più antico documento che riguarda il colore sono dei granuli di ocra rossa che sono stati trovati in un sito archeologico in Molise Isernia Lapineta ma è soprattutto l'uomo di Neandertal che compare in Europa intorno a 400.000 anni fa che amplia l'uso di queste sostanze e che utilizza il colore sia per attività pratiche sia per attività simboliche. L'ocra infatti è un ottimo materiale che impermeabilizza può essere usato per la conciatura delle pelli e anche per immanicare per esempio la freccia lungo l'asta nelle armi. Ma oltre ad utilizzare questo materiale l'ocra per funzioni utili ha utilizzato dicevo l'ocra per attività simboliche. Questa che vedete sono due conchiglie che sono state trovate in Spagna che sono state usate come recipiente per contenere il colore da usare. Non possiamo escludere anche l'impiego di pitture corporali ma non abbiamo ovviamente il documento archeologico che ce lo attesta. All'uomo di Neandertal si devono anche alcuni segni in ocra in Spagna quelli che vedete sulle pareti della grotta. Ma è soprattutto Homo sapiens la specie alla quale noi apparteniamo che amplia l'utilizzo di questo minerale di questo materiale e qui abbiamo nell'ambito delle produzioni sapiens il più antico documento un blocco di calcare che è stato inciso con delle linee vedete e che è stato interamente ricoperto di ocra rossa dandogli quindi un significato che ci sfugge ma che possiamo fare rientrare nell'ambito del simbolo. Al sapiens si devono le pitture che tutti conosciamo all'interno delle grotte e alcuni esempi che sono molto famosi e quindi sono i colori perché colori degli occhi perché sono legati alle pitture alle raffigurazioni a diciamo espressioni pratiche che sono sotto gli occhi di tutti e vediamo quali sono le gamme dei colori utilizzati dai paleolitici non tutti i colori che oggi abbiamo a disposizione in gran parte chimici ma solamente quelli che voi vedete il nero il rosso il giallo e poi sfumature di colori bruni ecco questi sono i colori prevalenti il nero come veniva ottenuto con carbone vegetale utilizzando anche il manganese e eccezionalmente il guano dei pipistrelli gli escrementi dei pipistrelli che sono frequenti appunto negli ambienti di grotta il rosso deriva dalle matite vedete la formula chimica e in genere veniva scelta una un'ocra molto compatta molto adesiva molto aderente perché doveva rimanere attaccata appunto alle pareti della grotta ocra gialla ghettite come materiale oppure limonite e poi tuttoni bruni derivati dalla miscelazione dei colori precedenti il bianco non esiste come colore in sé nella preistoria ma l'effetto cromatico bianco veniva procurato raschiando la parete della grotta quindi mettendo in primo piano ripulendo quella patina che ricopre appunto le pareti delle grotte e questo metteva in risalto i colori ocrati rosso giallo nero che abbiamo visto prima come veniva preparato il pigmento con la macinazione del minerale unendo al minerale cera d'api questo ce lo dicono delle analisi archeometriche convalidate da un ampio numero di evidenze e forse anche altre sostanze c'è chi pensa urina chiaro d'uovo però la cera d'api è un elemento fisso nella preparazione perché è quello che dà l'adesività al pigmento stesso e poi c'è l'applicazione del colore applicazione che poteva avvenire con una specie di tampone questo lo possiamo dedurre dalle tracce dal tipo di traccia che rimane sulla parete con un pennello che possiamo immaginarci ricavato dal pelame degli animali con un blocchetto tipo gessetto utilizzando l'ocra come gessetto oppure con una sorta di aerografo cioè soffiando il colore qui avete un'impronta in negativo attraverso un supporto cavo che poteva essere un osso lungo di uccello di cigno di aquila sono gli stessi supporti ossei cavi che sono stati usati anche per la costruzione dei flauti le raffigurazioni sono con un solo colore o anche policrome con più colori abbiamo abbiamo visto che non esiste una correlazione standard tra colore e specie animale quindi la gamma di colori che vi ho detto non è riferita a particolari specie animali allora noi parliamo di evidenze cromatiche figurazioni che sono all'interno della grotta la grotta è quel microcosmo che è stato alloggio residenza per le comunità ma anche luogo dove esplicare tutte quelle attività non utilitaristiche non quotidiane penso alla macellazione alla fabbricazione degli strumenti e altro ma anche per attività rituali sacrali cerimoniali qui vedete un esempio di un vero e proprio santuario è la grotta Lascaux molto famosa per attività dicevo simboliche come in questa grotta francese dove la pittura di un cavallo e quindi la creazione di un soggetto cavallo veniva poi colpita in una sorta di magia propiziatoria con dei proiettili di ocra rossa qualcuno pensa che fosse un gesto simbolico per propiziare l'attività di caccia l'ocra è un elemento dicevo impermeabilizzante che è stato molto usato nel rito funerario nelle sepolture questi sono due neonati in una sepoltura in Austria Krems che sono stati deposti secondo una pratica usuale nella prima parte del paleolitico superiore tra 40 e 15 mila circa sono stati deposti su un letto di ocra e anche al di sopra del cadavere veniva deposto uno strato più o meno spesso di questa ocra io penso che la prima finalità nell'uso dell'ocra fosse quella di impedire agli esiti maleodoranti ai cattivi odori derivati dalla putrefazione di salire in superficie e quindi di dare fastidio a chi viveva nella grotta perché non esistono in questo periodo diciamo le necropoli i cimiteri il mondo dei vivi e il mondo dei morti coincideva all'interno della grotta quindi era una protezione per i sopravvissuti questa ocra che impediva la circolazione dei cattivi odori ma sicuramente questa materiale ha assunto poi nel tempo un significato simbolico il rosso ecco e nella chiacchierata di stasera vi farò vedere anche come questo colore è documentato proprio come colore simbolico anche un'altra un'altra sepoltura siamo in Gargano datata circa 24.000 anni fa nella fase di scavo ha mostrato che lo scheletro di questa signora è stato era totalmente rosso perché era rimasto impregnato dal pigmento rosso dell'ocra che la ricopriva anche questo ragazzo di 11-12 anni che abbiamo avuto la fortuna di scavare in Calabria lo vedete sulla sinistra in fase di scavo aveva come copertura una sorta di mantello forse una pelliccia completamente impregnata di ocra rossa come vedete e poi decorata con centinaia e centinaia di piccole conchiglie marine che dovevano appunto decorare ornare la copertura il vestiario di questo ragazzo ecco quindi che cominciamo a parlare non più di colori degli occhi che sono quelli che vediamo quando osserviamo le pitture nelle pareti delle grotte ma colori della mente quindi l'aspetto simbolico del colore noi nel ricercare documenti che ci possono spiegare se i colori avevano un significato simbolico abbiamo delle evidenze importanti che sto per mostrarvi che riguardano il colore rosso e per dimostrarvi questo prendo una delle 52 sepolture paleolitiche che abbiamo in Italia quella che ho scelto è una sepoltura che si trova in Liguria alla famosa caverna delle rene candide dove un soggetto femminile è stato inumato insieme a un bambino e come da uso in questo periodo ai defunti insieme ai defunti venivano deposte nella fossa delle offerte dei doni quello che poi gli archeologi chiamano corredo funerario all'interno di questa sepoltura che vi sto mostrando ma potrei farvi caso come esempi altre sepolture sono stati deposti dei pestelli delle pietre diciamo lisce sulle quali macinare l'ocra sono state deposte conchiglie ci sono code di scoiattolo di cui rimangono gli ossicini e altri oggetti che sono sicuro vi colpiranno allora intanto le conchiglie quando un archeologo scava un sito archeologico una sepoltura eccetera trova le conchiglie come le vedete nella parte superiore dell'immagine cioè ormai bianche o color ravorio perché si sono decolorate ma in origine quando sono vive quindi al momento della raccolta prima di essere poste all'interno della sepoltura queste conchiglie avevano il loro colore naturale e le conchiglie che noi troviamo nelle sepolture del paleolitico hanno il colore che voi vedete nell'immagine in basso di un colore rosso acceso è il caso di questa conchiglia l'omalopoma sanguineum che ormai non vive più nel Mediterraneo si trova in mari caldi per esempio nel bar rosso e che è molto frequente nelle inumazioni del paleolitico altri esempi di conchiglie ritrovate questi è ovvio che questi sono esemplari recenti conchiglie dicevo ritrovati nelle sepolture che hanno varie sfumature di colore rosso ancora ma la sorpresa per i primi colleghi che hanno cominciato a studiare questi problemi è stata quando sono state analizzate delle piccole ossa che venivano ritrovate nella sepoltura è frequente trovare relativamente frequente trovare delle ossa di animale nelle sepolture perché c'erano anche delle offerte di cibo ma in questo caso venivano ritrovati ossa delle ali di uccelli becchi o qualcosa che rimandava alle zampe degli uccelli ecco che allora gli archeozoologi che si occupano di avifauna hanno cominciato a determinare le ossa per risalire alle specie di questi uccelli e il risultato di questi studi è che questi uccelli avevano tutti delle penne di colore rosso per esempio a sinistra vedete il re di quaglie il re di quaglie forse è l'uccello maggiormente presente nelle sepolture del paleolitico di questo uccello abbiamo solo le ossa delle ali perché le ali di questa specie di uccello sono di colore rosso come vedete nell'immagine e lo studio di dettaglio delle ossa ha fatto ha dimostrato che queste ali venivano strappate in modo cruento oppure tagliate con uno strumento di pietra quindi c'era proprio una selezione delle parti anatomiche solamente riguardo alle ali il fistione turco che vedete a destra è rappresentato nelle sepolture dal becco che come vedete dall'immagine è di colore rosso acceso ecco altri uccelli che sono parzialmente presenti nelle sepolture il gracchio alpino con le zampe più raramente il becco giallo il piccione il comune piccione la columba alivia che ha zampe rosse la colombella con le ali e il becco rosso il gabbiano col becco giallo scuro lo smergo col becco di colore rosso e poi eccoci alle code di scoiattolo perché le code di scoiattolo noi troviamo solo gli ossicini ma se noi prendiamo la coda del soggetto appena ucciso vedete che c'è questo colore fulvo questo colore bruno bruno rossastro ecco quindi che abbiamo in sintesi una selezione di parti anatomiche di uccelli una selezione di conchiglie una selezione di piccoli mammiferi che sono accumunati per la loro presenza nelle sepolture solamente da un parametro il colore il colore che ha varie sfumature vedete la diversa dimensione del carattere nelle immagini indica la frequenza è soprattutto rosso acceso e via via sempre un po' meno quantitativamente rosso arancio rosso marrone giallo scuro arancio fino al giallo che è il colore meno meno frequente ora noi non siamo in grado di dare un significato al colore rosso perché il rosso ci sono archeologi che non accettano il fatto che non possiamo arrivare con la nostra mente o con la documentazione ad una spiegazione di tutto quello che viene trovato ecco quindi che come potete immaginare per molti il colore rosso dell'ocra nelle sepolture ha richiamato il colore del sangue quindi come se l'uso di penne rosse conchiglie rosse code discoiatolo fulvo volesse richiamare il colore del sangue quindi della vita e da qui sono partite ipotesi a volte molto fantasiose sulla rigenerazione sulla reincarnazione e quant'altro è ovvio che i preistorici non hanno l'aiuto delle fonti scritte che spiegano i fenomeni spiegano il perché di certe evidenze e quindi l'archeologo deve avere anche il rigore scientifico di fermarsi laddove non è possibile trovare una spiegazione fermarsi però documentando un comportamento documentando un un atteggiamento di questi nostri progenitori homo sapiens quindi cosa fa inventa la linea inventa la linea comincia a raccontare il mondo il mondo esterno il mondo interiore attraverso figure attraverso figure antropomorfe o zoomorfe quindi il creare la linea permette all'uomo di raccontare di dare un nome a quello alle cose che lo circondano ma la grande novità non è solo l'invenzione della linea è anche l'uso del colore perché il colore dà vita alle forme create attraverso attraverso la linea ecco quindi che i colori della mente i colori con tutta la variabile gamma cromatica che conosciamo vanno intesi nella storia dell'uomo nella preistoria nella storia più antica come strumenti emozionali il termine estetica non implica solo una concezione riguardo al bello noi siamo abituati purtroppo a usare il termine estetica solo in relazione al bello a estesis vuol dire emozioni ecco quindi che il bello ci emoziona quindi è uno strumento estetico emozionale il colore al pari della figurazione al pari delle statuette ecco ecco quindi che il colore entra nel mondo simbolico e attraverso il colore quello che la mente dell'uomo o il cuore dell'uomo immaginano ecco che diventa un oggetto un oggetto reale e il simbolo che fa diventare reale quello che nella realtà non esiste tutto questo quando verrete a trovarci al museo di preistoria lo troverete nel nostro percorso espositivo e grazie a tutti